Musica 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 Ciao a tutti ragazzi sono Spryzer e benvenuti in questo erissimo video Oggi siamo con il Non so qual episodio Di Blue Shell Parkour Eeeh Allora Incominciamo Allora, questo già l'ho fatto, questo già l'ho fatto Ho fatto tutta la prima Tutta la mappa di questa fila Questo l'ho fatto, ora dovremmo andare a fare Questo C'è lo slime Quindi ci saranno di quegli slime Ehm Va bene Easy jump Ok Vabbè, una jungle Per forza E allora, horse Vabbè, horse non mi interessa Come sempre Start Da qui sopra Penso Guarda, già mi stanno per fronte Madonna Ok, perfetto Vai Allora, horse Ah Aspetta Ma è ovvio che io non lo Non lo prendo Ok Vai, questa volta Questa è la volta Questa è la volta È impossibile Non è impossibile Tutto è possibile Tutto è possibile Tutto è possibile Giusto? Hoppla Dai Dai Eh, fanculo Vai, ce l'ho fatto Ok, una checkpoint Ok Ok Hoppla Che cazzo In serio? Dai, non ci credo Ok Vai No, no Che cosa Perché non so Ah, perché devo arrivare là Che figato Non ho capito Perfetto Allora, dai Verso quella parte Verso quella parte Verso quella parte Verso quella Porta 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 Ma non devo correre Grazie al cazzo Mio dio Ok, vai Vai Che ce la fa Vai così Ok, ora Point Corsi Over here Jump down Ok, cosa devo fare qua adesso Dove devo andare Over here Dove c'ho lasciare Sto bello in una mano Andiamo Questa devo fare No, no Jump down Ah, ok Ora so Da sotto Cazzo Cazzo No No Merda No Mio dio Dove è quello Dove sta Ah, perché è tutto collegato Con delle pietre Con la pietra Perfetto Opla 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 Ok Qui siamo Qua Point Allora Course Quattro su quattro Vai Come che Direi di saltare Direi di saltare Direttamente qua Ok Ok Sì Perfetto Ok Adesso Ah Ok Ora devo saltare Là Dai No No Mio dio Perché non devo correre Questo è il mio problema Perché io Prego sempre control Ma in realtà Non devo correre Eh sì Sì vabbè Non devo correre Però se nemmeno ci arrivo Per essere difficile È ok Però Per di più È incazzoso Questo Porco Ok Ci siamo Dove solamente Correre Ok Guardiamo qua Sto andando Tanto alle 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 Oddio Oddio Sei serio Che ci faccio Madonna mia Perché fanno Ste Allora Come Bisogna fare Impossibile Cioè Allora Facciamo Adesso Ok Cazzo Allora Sei stronzo Va tu Ti rivela Eh vai così Sì che ce l'ho fatta Vai Mi fanno culo Perfetto Ora devo arrivare La Vai 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 Sì 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 Dimmi che c'è il checkpoint Qua sopra Perché se no Mi strangolo Dai Dai Allora Ok dovevo saltare Da quella parte Opla 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 Vai così Madonna Ecco Mi sta Sto riuscendo In tutte le cose Per ora Ora ci sarà Di un blocco sotto Dopo prenderlo E No 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 Di nuovo da capo Ma è pazzo Questo Madonna Dai Mio Dio E Pall Ora Ci siamo E Ci siamo Pura Perfetto Goal Raced Well done Ah Finalmente Ah Perfetto Ok 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 Verso No 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 Verso Up Finalmente Come ti 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 Abbiamo 11 Perfetto Mi Perfetto Stavo 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 Ok Va bene Credo questa mappa L'abbiamo fatta Credo di farne un'altra Perché L'altro Non è Che Dio Sì Ok Sì Ok Oppure io Queste mappe Fanno schifo Allora Vai E Questo l'ho Fatto Questo qua Ok Soprattutto Questo Back to Up Non dirmelo Che ci sono Di un 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 Cominciamo Ok Perfetto Va bene Va bene Va bene Va bene Perfetto Ok Ok Che cazzo Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Oh eccolo Mamma mia Che cosa sto facendo Oh no No Non ci credo No Mamma mia Che momento Ma che cosa Ho avuto No Ora non mi riesce più Dai cazzo Ok Mi sa Io già Appena ho saltato Volevo Il carro Ok 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 Vai 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 E Dai Ci riesco a salire Opla Opla Oh Cioè in pratica Ho capito In pratica Quando si salta Nei cactus È normalissimo Il salto Solo che Perdi Down Non è che In pratica Ti fa saltare Un blocco in più Il salto Quindi Cioè si basa Solamente Sul Star attenti Quindi Va bene Ecco Ma Già era aperto Mi prendeva il culo No Oddio Cioè il creatore Si è dimenticato Di Di chiuderlo Solo con questo Errore ti darò Quattro stelle Allora vai Vai sono carico Sono carico Sono carico Sono carico Mio dio Oddio Fai No Ok Vabbè Dove fare adesso qua Cioè per esempio Non ho preso nessuna Non ho preso nessuna La cesta Allora La prendo perché tanto È simpile Ovviamente Ovviamente Allora Mi ha dato l'idea Proprio 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 alla citer Faccio questa cosa Oh no Non ce l'ho Non lo faccio Oplà Oplà Ok 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 Cazzo Sto è difficile Ok 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 Cazzo Madonna Non ci riuscire Ok 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 bene vabbè oh ce l'abbiamo fatta pure questa mappa perfetto e abbiamo anche completato due mappe come al solito ok siamo a 18 diamanti ci manca solamente 3 diamanti no 2 diamanti per avere il pulsante per prenderci il pulsante comunque il video finisce qua meno male che è durato più corto più corto del solito anzi ho finito già il primo stage se si può chiamare così e andremo al primo settore e andremo al settore secondo, credo che saranno molto più difficili questi, già vi stanno piacendo quindi grazie per aver seguito il video fino a questo punto vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi e mettere anche mi piace alla pagina di facebook per avere aggiornamenti a riguardo il mio canale e ad altro io sono Splicer e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.